Domenio Dominio Catturiamo ma Copritemi, prendo l'obiettivo Prendiamo gli obiettivi Obiettivo A è in mano nostra Charlie in mano nemica Procedo alla cattura Prendiamo bravo Bravo, è in mano nostra Stai mangiando fuori Perdiamo bravo Innemico a bravo Prendiamo Charlie Prendiamo la cattura Prendiamo la cattura Stiamo indietro Stiamo indietro La cattura Oh Catturiamo B Aereo in via ostile in sorvolo sulla zona Catturiamo B Ripariamo la lezione e vinciamo il prossimo round Siamo a metà Aereo in via ostile in sorvolo sulla zona 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 Catturiamo B Catturiamo B Catturiamo B Catturiamo C Elicottero di supporto ostile in arrivo Catturiamo Alpha Copritemi, prendo l'obiettivo Perdiamo B L'obiettivo è noto Tutte le zone sotto controllo Trincerarsi e difenderle Ho preso C Abbiamo preso Troppo Prendiamo B Copritemi, prendo l'obiettivo Sente che... Approvisamento ostile in arrivo B è in mano nostra Aereo spia ostile in sopporto sulla zona R-CXD ostile nell'area operativa Perdiamo Bravo Contatto con l'area in spia nemici Perdiamo Bravo Atenzione flashbang lanciata hanno preso b catturiamo b copritemi prendo l'obiettivo controllo l'rcx bravo è in mano nostra aereo spia nemico in arrivo perdiamo b aereo spia siamo passati in vantaggio è il momento di dare tutto uso una flashbang perdiamo b torretta robot attivazione l'intera nazione vi ringrazia tornate a casa qui non ci batte nessuno aereo spia aereo spia aereo spia